Confessioni scottanti di Favier Martínez. Favier Martínez ha recentemente condiviso alcuni dettagli rivelatori con gli altri concorrenti riguardo a Shaila Gatta, in particolare su commenti che la ragazza avrebbe fatto su Lorenzo Spolverato. Il pallavolista argentino ha rivelato che Shaila, in momenti di intimità, avrebbe manifestato delle opinioni piuttosto forti che potrebbero indicare un'inquietante visione su Lorenzo. Le dichiarazioni di Favier su Shaila, ho sempre cercato di proteggerla, nonostante lei affermasse che non ci eravamo mai baciati, mentre in realtà ci baciavamo ogni notte. Ha esternato anche parecchi pensieri su diverse persone in casa, compreso Lorenzo. Quando eravamo a letto, mi ha riferito cose che mi hanno fatto intuire che non fosse realmente presa da lui. Favier ha continuato. Una volta, mentre chiacchieravamo, ha espresso delle domande sulla possibile attrazione di Lorenzo verso gli uomini, utilizzando un'espressione che non poteva essere considerata rispettosa. Questo mi fa dubitare di come possa ora dichiararsi innamorata di lui, visto ciò che mi ha confidato. Reazioni sui social media. Le rivelazioni di Favier hanno generato un acceso dibattito su Twitter, con molti utenti che si interrogano sui termini utilizzati da Shaila e sul significato delle sue affermazioni. Frasi come, è possibile che a Lorenzo piacciano anche gli uomini, hanno sollevato interrogativi e commenti da parte dei follower. Javier Martine, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato.